Sono a margine della videoconferenza che abbiamo appena tenuto con il Governo, la Protezione Civile e le altre regioni italiane. Bene che il Governo abbia finalmente chiarito, dopo le ambiguità del testo del decreto approvato ieri sera, a tarda sera, che i lavoratori, che ovviamente non siano né in quarantena né risultino i positivi ai test per il coronavirus, possano tranquillamente e liberamente andare al loro lavoro, così come possano spostarsi nei territori e nel Paese le merci. Questo deve essere chiaro perché c'era stata non solo ambiguità, ma siamo stati subissati da richieste in queste ore, ovviamente, per sapere se le persone potevano andare a lavorare o se le merci potevano dalle imprese essere spostate. Ebbene sì, questo potrà avvenire, è evidente parliamo di necessità importanti, impellenti, come quelle magari per spostarsi per ragioni di tutela della propria salute. Perché vedete, non vogliamo però, lo dico con grande chiarezza, sottovalutare quella che è una vera e propria emergenza sanitaria, che non va sottovalutata, va vista nella propria diffusione e difficoltà, ma che questa regione vuole affrontare, intanto ringraziando i lavoratori e le lavoratrici della straordinaria sanità regionale, che stanno lavorando in maniera straordinaria, indefessa, e che stanno dando una mano per rispondere a chi ha bisogno di essere curato. Medici, operatori sanitari, infermieri, ma anche i medici di famiglia, farmacisti, tutti insieme. Dobbiamo loro un grande abbraccio collettivo, perché stanno rispondendo, ripeto, in maniera generosa e straordinaria. Sia chiaro, il nostro primo impegno però è contrastare l'emergenza sanitaria e dunque contrastare la diffusione del coronavirus. Bisogna avere coscienza dei rischi che si corrono ed è per questo che invito gli Emiliano-Romagnoli, invitiamo gli Emiliano-Romagnoli a spostarsi soltanto per lavoro o per casi di necessità impellenti. Proprio per questa ragione abbiamo condiviso con i sindaci delle quattro province che non sono coinvolte dalle zone arancioni, cioè quelli di Bologna, di Ferrara, di Forlice-Sena e di Ravenna, di accettare al pari degli altri che estenderemo ulteriori restrizioni, omogeneizzandole per tutta la regione. La chiusura delle palestre, delle piscine, dei luoghi sportivo-ricreativi, e anche dei centri diurni, perché persone particolarmente fragili, è bene che evitino di recarsi in quei luoghi.